I 60 giorni stanno per scadere. Acciaierie d'Italia deve effettuare la messa fuori produzione della batteria 12 nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non superiori a 60 giorni a partire dal 1 luglio 2021 scorso. Lo dispone un decreto del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. La batteria della cocheria è quella che Acciaierie d'Italia avrebbe dovuto adeguare alle prescrizioni ambientali dell'AIA entro la fine dello scorso giugno. In udienza Altar l'azienda ha portato anche un parere dell'ISPRA circa l'impossibilità di fermare la batteria in 10 giorni e il ministro scrive nel decreto che è inutilmente decorso il termine previsto dal DPCM del settembre 2017 per l'attuazione delle prescrizioni riferite anche alla doccia 6. Per Cingolani si è preso atto del rapporto ISPRA che asserisce che non sono possibili soluzioni tecniche alternative a quelle proposte dal gestore. Il ministro ha sottolineato nel decreto di sette pagine che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni all'ambiente e alla salute e in conseguenza alle tempistiche necessarie alla messa fuori produzione. Inoltre il rispetto e stato d'avanzamento delle attività dovrà essere monitorato da ISPRA è comunicato tempestivamente al ministro.